zitta zitta che siamo al nord zitta 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 buonasera amici aspetta volevo sapere da tutti gli amici vicini e lontani da dove si capisce che siamo al nord? non lo so si capisce allora amici buonasera allora innanzitutto salutiamo l'ami salutiamo l'ami eccolo qua Alex Camper già è collegato il primo a collegarsi è sempre lui è sempre il primo questa sera manca donna allora buonasera allora questa sera questa diretta salutate l'ami va in onda da Avigliana in provincia di Torino siamo venuti eravamo venuti a trovare degli amici invece ci hanno messo subito a lavorare perché allora abbiamo levato le fuligini dai muri l'acqua da terra l'acqua veramente l'hai fatta cadere tu sito non si può dire però l'acqua l'hai fatta cadere tu e lei non ha visto è arrivata Dona ciao Dona ciao Dona ciao Dona questa volta amici ecco qua ci abbiamo Alex Camper dietro che compare siamo a casa di Alex Camper Andrea Andrea con l'ami con l'ami ovviamente e Dona che sta cercando di fare il caffè allora non vi dico sta cercando di fare non vi dico la cena grazie alla suocera e alla mamma di Dona siamo riusciti a mangiare qualcosa quindi grazie a mamma di Dona grazie a mamma di Alex quando ci ha proposto le cose fatte da lei lasciamo per ora il caffè vogliamo parlare del caffè allora se questo lo chiamate caffè è vero che siamo al nord e quindi anche è poco no non vogliamo dire allora somiglia un po' al caffè inglese diciamo che potrebbe essere anche americano a Napoli ti porterebbero anche la forchettina perché ci sono i raggi dei dei pupu che si possono prendere quindi ma sono le branche di Polito quindi sembra acqua di va bene comunque grazie Dona è un piacere è un piacere per piacere allora avremmo di da raccontarvi tantissime cose intanto intanto fai il posto ad Alex ad Alex che è qua ma anche Dona cioè a questo punto dobbiamo ciao Nino ciao Nino ciao Nino ciao Lia ciao Dona salutiamo intanto ciao Giuseppe le amiche di Campergo le amiche che sono Paola e Grace che sono state gentilissime ci hanno ospitato due giorni nella loro bellissima terra San Mignato San Mignato bellissimo la parte nord la parte storica fantastica alta alta quindi la parte bassa alta media vi consigliamo di andarla a visitare stasera niente fiorentina ma torneremo torneremo per la fiorentina stasera invece siamo in quel in quel di Torino in provincia di Torino Avigliano già abbiamo fatto un ginetto un volentonio c'è Monge Bells Park ciao Peppe ciao ragazzi ciao ragazzi un bacione Carmelita e un saluto anche e genitori e quindi ci stiamo preparando per l'inaugurazione dell'officina di Alex Camper che come sapete è una delle officine convenzionate con noi in Italia ma non è solo perché è convenzionata con noi in Italia l'officina di Alex Camper è Alex Camper è la simpetia di due amici carissimi quindi non è solo un discorso di officina allora vediamo se muoio in diretta ragazzi ragazzi ci hanno fatto i caffè la brioche la brioche e vabbè Paola dice mi aspettiamo non ti preoccupare perché è un'altra fiorentina questa volta ne mangiamo una Marco ha detto ci vediamo sabato perfetto Sergio di Osi San Marco buonasera c'è tutta Italia collegata la cosa è fantastica ciao Renato buonasera la grappa nel caffè domani ci vediamo domani con la grappa nel caffè ci andiamo a mangiare una bella pizza quindi allora abbiamo fatto l'Italia è tutta bella noi vi consigliamo di girarla perché dove siamo andati fino adesso ciao Marco corretto dovevo essere già no no guarda Marco il problema è che è sbagliato non è corretto è sbagliato Marco se domani venite in officina da Alex ve lo faccio io con la mia macchinetta nel mio camber che è fantastica questo non si può bere il problema non è guardate la mia faccia quando lo bello dai però non esagerare è una cosa sei offentivo è buonissimo è la fine non è buono e non lo facciamo mai appena rientriamo in camber sicuramente meno male che abbiamo abbiamo usato il solbio che funziona alla grande vabbè ma noi andiamo nel baglio dell'officina allora ciao Gaeta e domani lo troviamo e io l'ho non ho asciugato perché è partito quando riempito l'acqua si è allagata l'officina allora raccontiamo un po' di cose quindi siamo stati in Toscana stato bellissimo bei posti anche lì ovviamente come sapete tutta l'Italia è bella ci stiamo Marco infatti il nostro caffè e quindi vabbè tra poco lo berrai sicuramente e poi siamo andati a San Mignato dalle ragazze dell'app Camper Go Camper Infiniti Camper Go Camper Infiniti da poco siamo state in giro siamo state con loro a cena fuori siamo state a cena a casa loro siamo state bene perché quando si sta tra amici si sta bene siamo arrivati ad Avigliana va bene che ci hanno messo a lavorare a levare le fuligini a pulire i tecchi Gaetano siamo a Avigliana in provincia di Torino a casa di Alex Camper che anche in questo caso siamo con Avigliana Gaetano lui è a Capodorlando a Capodorlando in provincia di Messina Rocca di Caprileone Rocca di Caprileone tra l'altro abbiamo anche un simpatico giovanotto che ci fa le foto le foto quindi abbiamo anche quindi stavo dicendo ci stiamo preparando all'inaugurazione dell'officina di Alex Camper che come sapete è convenzionato con noi insieme ad un'altra officina in Italia ci stiamo preparando perché da domani noi ci preferiamo ma soprattutto l'officina si sta preparando al fermento noi già abbiamo visto che c'è una parte dell'officina che è piena di roba da mangiare da bere birra a tinkite già ci sono le ballerine le ballerine brasiliane sono posteggiate in un altro ho conosciuto una delle due ballerine perché saranno due però ho conosciuto una sola fantastiche ragazzi un costumino eccezionale tante piume tantissime piume quindi sarà una serata un pomeriggio una serata sicuramente bellissima soprattutto ci sarà il pomeriggio giovani e poi quello per gli anziani sarà sicuramente un incontro di amici che si rivedono prima della fiera di Carrara Daniele buonasera è arrivato ciao Daniele domani daremo una mano domani dopo domani forse per cercare di sistemare tutto ma l'officina ha poco perché è nuova è pulita è sistemata parte qualche qualche centina buonasera il mondo ti do ti aspettiamo quindi ci stiamo preparando per tutto questo ovviamente daremo una mano devo dire la verità che ci ha dato appena arrivato avevamo un problema di perdite al camper abbiamo le perdite avevamo le perdite poi lui aveva le perdite di acqua menubale risolto e quindi niente oggi è una settimana come dicevamo l'altro giorno come dicevo stamattina che abbiamo il camper ritirato da dottor camper a Gravina di Catania che ci ha montato il sistema Carbest Total Black pannello solare batteria regolatore di tensione una settimana senza utilizzare corrente elettrica tutto alla grande con le candele solo con le candele siamo andati alla grande senza nessun problema oggi siamo arrivati qui in officina ci siamo collegati alla due vendi giusto per per essere anche perché domani devo fare uno shop devo usare il forno perché sennò non ce la facciamo quindi cettina ok hashtag sposa Lidia camper go è vero mancate solo voi sabato però vedete vedete di organizzarvi come potete fare noi vi aspettiamo sarebbe bellissimo avervi tutti qua quindi credo che hanno quel problema a Brescia comunque parlando di altre cose cosa dobbiamo dire siamo a casa di amici e la cosa già è bellissima anche se abbiamo fatto tantissimi chilometri Alex che si andrà con una metà ma andate lì qua si vede ecco si allora tu cosa vuoi dire visto che sei in diretta cosa vogliamo dire che aspetto tu rinnova gli inviti rinnova gli inviti a tutti spero di vedervi presto ma con un po' più di gioia è stanco è stanco ha lavorato tantissimo non vi dico la capigliatura che aveva oggi quando si eravano in Bertino adesso comunque si è fatto lo sciambo ma un po' meglio sembrava che una gente senza casco allora niente vi volevo fare vedere anche Andrea vi volevo fare vedere Dona Andrea che fa le riprese quello su Instagram ovviamente e allora Cettina e certo Cettina noi vi aspettiamo mancate solo voi Cettina Cettina mancano Cettina e le ragazze di Campergo quindi e comunque poi ci sarà l'appuntamento finale tutti a Carrara ci sarà non so non si sa vediamo cosa no cosina no cosina aspetta 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 dobbiamo andare un po' più indietro va bene così ci siamo ok perfetto ok dai ci siamo tutte e tre quindi quindi noi rinnoviamo mi permetti di farlo l'appuntamento di per tutti gli amici che conoscono Alex Camper Alex ah no Alex Alex Camper giorno 25 a che ora dalle 15 e 30 in poi ci sarà l'inambulazione ricchi premi ecco io ricchi premi ci saranno veramente alcuni premi sicuramente e anche grazie al nostro sponso che è mi caratois ci sarà qualche premio qualche regalino anche da parte noi ci saranno comunque tante cose ma soprattutto staremo insieme ci divertiremo fino alle 4 alle 5 di mattina facendo quando? alle 3 alle 3 alle 2 alle 2 fino alle 2 fin quando tanto non c'è problema lì non c'è nessuno non c'è nessuno ci fanno le riprese fanno la diretta nella diretta le riprese nelle riprese va bene tutti ad Avigliana e lo spazio c'è fino a un certo punto la roba da mangiare ci basta per tutti? e beh facciamo facciamo due spaghetti un po' di pane buzzato va bene noi oggi la facciamo breve Andrea Bortone Andrea Bortone buonasera ciao Andrea siamo da Avigliana le mozzarelle mancheranno sempre perché Andrea Bortone non le porta non le ha mandato non le è venute in Sicilia niente Andrea niente Andrea Andrea è una bufala è una bufala Andrea sei una bufala una bufala dai scherziamo va bene noi chiudiamo l'appuntamento di stasera poi domani sicuramente faremo ciao Silvia Silvia ciao faremo una una bella intervista ad Alex Camp domani in officina così faremo vedere in anteprima l'officina bella sistemata senza racchiatele senza acqua per terra se riusciamo a sistemare e quindi va bene ragazzi è stato bello anche per stasera avervi così numerosi visto che eravate in tanti vi mandiamo un grosso bacio ad Avigliana in provincia di Torino vi aspettiamo da Alex Camber Corso Torino sei Avigliana sei barra o oppure ora è esagerato va bene comunque lo vedete vicino c'è un oiotto messo in una rotonda quindi di fronte c'è lui non si può sbagliare va bene buona sera da tutti una buona serata ciao mamma a presto ciao saluta Andrea ciao 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 ciao